Il tema dell'ambiente è una tematica di grande attualità, basta vedere il fenomeno Greta Tamberg, basta vedere i Fridays for Future. Negli ultimi anni è avvenuta una ideologizzazione di una tematica che dovrebbe riguardare tutte le persone, a prescindere dal partito politico per cui votano e dell'area di appartenenza. È avvenuta una ideologizzazione da parte di quello che è un mondo che potremmo definire libera, lo globalista, rappresentato da Greta Tamberg. Questa sera cerchiamo di raccontare e spiegare come possa esistere una diversa visione della tematica ambientale che viene declinata rispetto a quelli che sono i valori e le idee del mondo conservatore e del mondo della destra. Francesco, il titolo del libro? Conservare la natura perché l'ambiente è un tema caro alla destra e conservatori. Da quando è disponibile in libreria? Il libro è già uscito da qualche settimana, lo stiamo presentando in varie parti d'Italia, ieri eravamo a Sabao, del giorno prima in Basilicata, domani saremo in un'altra provincia delle Marche. Stiamo facendo un tour insieme anche a quello che è il mondo del centrodestra, a 360 gradi con i partiti della coalizione, ma anche con un mondo civico, ma anche con un mondo associativo come è Nazione Futura, per cercare di porre l'attenzione su un tema che riguarda senza dubbio il futuro anche delle giovani generazioni. Come vedi l'esito delle votazioni qui nelle Marche? Francesco Acquaroli è un candidato ottimo che è stato scelto dalla coalizione, quindi siamo molto fiduciosi per quella che può essere la sua vittoria. È vero che sarebbe un fatto tutto sommato quasi epocale, perché le Marche come la regione da cui provengo, l'Emilia-Romagna, sono una regione storicamente appartenuta alla sinistra, ma questa volta ce la si può davvero fare e credo che ci sia una voglia, un'esigenza di cambiamenti in questo territorio. Stiamo girando, se state a San Benedetto, del Tronto, saremo a Macerata, saremo ad Ancona e in tutti i territori in cui andiamo c'è grande interesse, grande accoglienza per un cambiamento di classe dirigente che credo questa regione abbia davvero bisogno.